Salve a tutti, questo video lo inizio io perché adesso vi spiego praticamente, sto facendo una sorpresa a Casey, lei non sa niente, sta ancora dormendo, io ho fatto finta di uscire, magari le bollette alla posta. La sorpresa riguarda quello che sta dentro quella cassettina lì, praticamente un po' di tempo fa io e Casey andammo a vedere un cucciolino, un piccolo cagnolino che ci piaceva e lo scegliemmo, però era troppo piccolo, dovevamo aspettare che crescesse per poterlo prendere e portarlo a casa. Quindi avevamo deciso di andarlo a prendere un determinato giorno, però io ho deciso di fare questa sorpresa, ho deciso di andarlo a prendere un po' prima, qualche giorno prima, e praticamente sono andato a prenderlo e non so se lo sentite ma è lì dentro che, non riesco, è lì dentro che pianiucola in questo momento che vuole uscire. Quindi adesso io lo prenderò e lo porterò sopra da Casey e le farò questa sorpresa. Adesso ve lo faccio vedere un attimo. Abbiamo deciso di chiamarlo Spike, Jack Russell, è piccolissimo, a differenza della mia, è proprio minuscolo. Adesso la porto sopra. Salire voglio chiamare la mia per farla scendere giù, perché se no è la prima volta che vede questo piccolino qui che sta chiamando, non vorrei che faccia casino, quindi prima lo chiamo. Mia? 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 Aspetta qui, capito Mia? Ti ha fatto sopra tu seduta. Mia? Stai qui, seduta? Seduta Mia? Bravissima, aspetta qui che vengo sopra, ok? 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 Ora vengo nel vetto. Ora vengo nel vetto. Amo? Come? Sì, sì. No, girati. Girati. Vieni, girati, prima di che vengo io, girati. Però fai attenzione, piano piano girati. Girati, girati. Oh, fa sole. Girati. Piano. Ma che cazzo? Oh, via. Girati. 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 Ma è lui. Sì che è lui. Oh mio Dio. Girati. Girati. Oh mio Dio. Secondo te perché la mia l'ho lasciata giù? Girati. Girati. No, vabbè. T'ho fatto una sorpresa, non sono andato la posta, sono andato a prendere a lui. No, ciao, postatore. Oh mio Dio, ma è cresciuto. Non male che è cresciuto, crescono veloci. Certo, fammi capire, sei andato a fare questa cosa da solo, senza che io ti dico niente? Sì, esattamente. E poi hai preso la videocamera, cioè ma cosa c'è su questo? Sennò che sorpresa è? Oh mio Dio, non ci credo. Ma come mai te l'ha fatto già prendere? Eh, lui aveva detto che si poteva già prendere, e allora... Mi sa porticchi a mio dito, ciao. Oh mio Dio, fa pianissimo. Ciao, ciao. Oh, che carino. Spike, giusto? Sì, Spike. Ciao, Spike. È ben deciso insieme, no? Sì, sì. Oh mio Dio. Amore, oh Dio, ho troppa paura che caschi. Ciao, 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 ciao. Oh, ma puzza. È stato fino a mo' con i fratellini, è normale che puzza. Puci, puci. Amore, sono un cetone, no? Oh mio Dio. Amore, ciao. Ciao, ciao. Benvenuto nella famiglia, questo ricettolo. Che bello. Ehi. Ma no, 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 no. È troppo così. Ahahah. Non ci credo, ma veramente, è vero. Non possiamo tenere. È normale. Sicuro che non è una cosa così. No, no, no. Amore. Ciao. Ma perché non mi hai detto niente? Non lo ho detto niente. È una sorpresa. Sì, no, che sorpresa è? No, dovevo portare insieme. Ma no, volevo prenderlo da solo, volevo metterlo nel letto. È cresciuto. Sì, soprattutto la pancia. La pancia è bella gonfia. Raga, non ci credo, sono troppo gasata. Scusatemi per le condizioni in cui sto, ma veramente mi sono appena svegliata. Cioè, ho la faccia super gonfia, sono super rossa. Ho i capelli di merda. Ma no, guardate quanti piccolino. Pensa pochissimo, vi giuro, è come tenere in mano un peluche. Che dici? Prendiamo la mia? Vediamo come reagirà. Non si sono incontrate, no? L'hai travista. Sono troppo contenta. Cioè, voi non potete capire. Io amo i capelli. Mia, vieni qui. Vieni qui. Vieni, vieni. Piano, mia. Mia, piano. Oh, guardatelo. Piano. Oddio. Eh, 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 eh. Mia, piano. È piccolo. Oddio, è bello. Oddio. Oddio, hai sentito? Ho sentito una tuzzata. Io invece ho sentito uno sbadiglio. Gli sbadigli in faccia, Spike? Ma dopo quanto apre la bocca? Oddio. No, vedi, Spike. Si difende bene. Mica se ne scappa. Secondo me. Che bello di naso. Che bello. Secondo me è muore a prima vista, te lo dico. Ehi, piano. La mia sta scodinzolando un cassino. Ora no. E' così. Ma che panza c'ha? Ma che panza c'ha? È un maialino. Piano, mia. È un maialino. Guarda che panza che ha. Ehi. Gelosona. Gelosona. Piano. Piano. Lo portiamo via. Non è un giocattolo. Non è un giocattolo, mia. Non è un giocattolo, mia. Non è un giocattolo. Guardate lui. Ma cosa mi mordi? Mi sa che è già diventato padrone della casa, eh. Come la mia. Dopo dieci minuti. Già è diventato padrone. Ha pianto. Se niccolava dentro la cucciata. Ehi. In braccio che era tutto. Guarda che bello. È un po' gelosa, eh. Si vede. Piano, mia. Gentile. Dai bacino. Bacino. Comunque, ragazzi, state tranquilli. Non gli sta facendo niente. È il suo modo di giocare. Ma non è che lui si fa fare di tutto, eh. Guarda. Già si difende. Mette le zampe in faccia. La morde. La morde. Ah. Oh, che carino. Spike. Il fratellino mio, il fratellino. Ma il lascia con le povere orecchie. I bacini. I bacini. Che brava. E mentre la chiesa si gode il momento, chiudo io il video così come l'ho iniziato. Quindi fateci sapere nei commenti che cosa pensate del cucciolo. Chiedeteci tutto quello che volete sapere. E ci si becca al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Ah, vieni qui e se lo è va. Ciao. 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 Ciao, ciao, ciao.